subito sarà disponibile il replay totale, Koeffler replica lei ora ebbene si applaude mentre salta, subito dopo il salto l'altoatesina alla prima 4 e 10 e si infiamma la gara vanno forte le ragazze, vanno forte, anzi le promesse 4 e 10 alla prima, Gerka tocca a lei ora scesa al quarto posto visto che non va la seconda, ancora uno per Nathalie sui blocchi Porto e Chiara Bonfili per la Grottini Team Recanati Elettra Salvadori, Toscana 3D Grazie a tutti 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 Grazie a tutti